www.feyyaz.tv Ma fra un'ora dove? Vai, ok, vai. Cioè, fra un'ora... Più che altro è leggera. Io me la farei anche, ma non mi sorprende da sola. Va bene? Non me la sorprende. Non l'hai mai presa? Da sola, mai. Ma te l'hanno iniettata qualche volta? Sì. Quando c'è la roba di merda che è leggera, allora lì per levarti il calo devi per forza iniettartela, perché non la senti. Non la puoi sentire. Si vedono gli occhi, sono cambiati. Non ho più la pelle d'occhio. Noi. 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 Sono... Sono cambiato. È un cimilino. si sentirebbe meglio con una bella fiera però è leggerina c'è un po' di sensazione più che altro si viene sull'amaro ti smette di avere i brividi e basta smetti di avere i brividi ti leva il calo e ti fa ripartire le gambe e ti fa ripartire la testa questo è quello quanti anni avevi quando hai cominciato con l'eroina? più o meno iniziato tutto dopo le canna per 13 anni iniziavo la prima canna poi da lì sono iniziate le feste i rivoli, le discosette chitamina, md, pasticche quello che c'era te provavi nemmeno lo sapevi lo mangiavi erano cartoni md non lo so mangia tutto e tua sorella anche lei prende l'eroina sì non tu l'ha vista ieri mi si addormentava su quella scalina quanti anni ha tua sorella? 20 quanti anni ha cominciato lei? come me più o meno 13 anni? sì sì, le sale abbiamo iniziato due nella stessa maniera grazie a tutti grazie a tutti Grazie.